Mi chiedo di chiudere gli occhi per un secondo, tenendo i cellulari accendi. Ognuno di noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, raccoglie tutte le energie di cui siamo capaci. Questa è una preghiera. La preghiera raccoglie tutto noi stessi per portare davanti al Signore le nostre intenzioni, i nostri desideri, tutto quello che portiamo dentro di noi, che siano fatiche, che siano gioie, che siano speranze. Quindi vi chiedo per qualche istante di stare in silenzio, chiedendo gli occhi, di portare davanti a Lui tutto quello che ci sta al cuore. Ti chiediamo, Signore, di accendere questi desideri, queste intenzioni, come queste luci, come se fossero delle stelle, nel fermamento della vita, nel fermamento delle esperienze che vivremo a queste state. E per questo fin da adesso vi ringraziamo, dicendo gloria al Padre. Adesso vi chiedo una cosa, semplici, semplici. Grazie. Grazie.